La rassegna stampa di Fanno TV inizia puntualmente tutte le mattine alle 7 in diretta sul canale 17 visibile in tutta la regione Marche e comincia con il Santo del Giorno buongiorno a tutti innanzitutto a voi telespettatori cominciamo e vediamo il Santo di oggi, è una Santa famosissima, Santa Chiara che tra l'altro è anche la patrona della televisione quindi ci affidiamo a lei per tutto il resto dell'anno l'alba alle 6.07 e il tramonto alle 20.19 C'è poco da dire sul tempo, siamo sul sito della protezione civile delle Marche per oggi cielo sereno o poco nuvoloso, così nella giornata di domani invece sarà prevalentemente soleggiato sulla costa un po' di nuvole nell'entroterra così come nella giornata di venerdì 13 agosto condizioni stabili e soleggiate per tutta questa settimana che è la settimana clou è la settimana di ferragosto, è la settimana dove insomma molti di voi, immagino, spero, siate in ferie a proposito salutiamo anche i turisti che si trovano nella nostra splendida regione e allora i turisti li portiamo nella spiaggia di Numana dai bagni marino dove c'è Roberta Pincini buongiorno Roberta a te buongiorno a tutti allora che cosa ci racconti? Intanto com'è il tempo lì da quelle parti? oggi è una giornata meravigliosa, il mare è una tavola, gira anche un po' di vento anche se è calda ma almeno si respira un po' si respira allora oggi come avevamo annunciato nella puntata, nella giornata di ieri avremmo parlato del tuo ristorante perché nella tua spiaggia c'è anche un ristorante che è attivo dal lontano 1958? esattamente Marco, si, è proprio una tradizione familiare, c'era nonna in cucina, poi c'è stato papà adesso siamo noi figli che gestiamo il tutto ecco ci fai vedere un attimo dove è collocato, anche da lì da dove ti trovi? si, 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 guarda perché la spiaggia è abbastanza capiente, è proprio su in alto seguendo quella passerella che vedi nello sfondo, esattamente ed è proprio su allora, che cosa preparate? piatti di pesce, piatti a pranzo o cena? si, si, la tradizione ovviamente continua col pesce, ovviamente pranzo e cena e da quest'anno abbiamo avuto l'aiuto di un prof di Senigallia, un executive, si chiama Massimo Pomprezzi abbiamo introdotto una cucina un po' più moderna e innovativa, niente di trascendentale però panini gourmet, pizza al padellino, tutto un po' più interessante, più giovane sfiziose, sfiziose e buone, bene, allora intanto grazie per questo collegamento poi magari ci aggiorniamo perché c'è il 14, quindi Riccardo dacci un po' di, chiedo al regista perché abbiamo il 15 per esempio non andiamo in onda, giusto Riccardo? no esatto e che cos'è? domenica? quindi no, il 14 ci siamo, quindi abbiamo tutta la settimana piena Roberta allora avremo modo di riparlarne ancora nei prossimi giorni buon lavoro anche a te, grazie anche a voi e buona giornata noi invece adesso ci dedichiamo ai giornali, come sempre abbiamo selezionato, ho selezionato un po' di pagine dal resto del Calino, dal Corriere Adriatico, le edizioni di Pesaro anche se poi io le edizioni al mattino me le leggo tutte, me le guardo tutte però chiaramente avendo poco tempo, poco spazio, ci concentriamo più che altro sulla pagina e sulle cronache della provincia di Pesaro Urbino allora, innanzitutto il flop della manifestazione che era una manifestazione bellissima, straordinaria a Pesaro, la notte delle candele, che è stata completamente massacrata da questa cosa del Green Pass non c'è stato praticamente nessuno, pochissima gente sulla spiaggia, una desolazione insomma questo era prevedibile e questo sarà anche per tutte le altre iniziative come le fiere e quant'altro perché sapete che il governo ha deciso di applicare questo Green Pass in piena estate quando teoricamente un po' di soldini girano eppure una mazzata per tutti i commercianti e quant'altro insomma si sono inventati questo Green Pass per accelerare le vaccinazioni in piena estate e il risultato è questo eccolo qua, la fotonotizia sul resto del canino di oggi una spiaggia, un molo di ponente completamente vuoto pochissima gente rispetto ovviamente all'anno scorso il Green Pass smorza le candele, questo è il titolo del giornale sotto invece guardate la fotografia di questi agenti di polizia che controllano il Green Pass ad una persona che sta per entrare pensate che hanno fatto qualcosa come mille controlli cioè una cosa esagerata, mille controlli nel corso della serata, in un paio d'ore, qualche ora mille controlli una cosa che neanche nelle partite di calcio più pericolose più ad alto rischio si fanno all'ingresso degli stadi una cosa completamente fuori di testa ma comunque questo era il messaggio che volevano far passare che il sindaco probabilmente voleva far passare e ci è riuscito spaventando tutti e lasciando, praticamente c'era Viale Trieste pieno di gente e le spiagge vuote quei pochi che c'erano al posto di sognare probabilmente si sono depresse l'ospedale va fatto a Muraglia il diktat sempre del sindaco Matteo Ricci che pone le condizioni al presidente della regione Acquaroli è l'unico sito adatto, dice e poi tra le tre condizioni che detta Matteo Ricci dice l'azienda Marche Nord non si tocca ancora sangue amarotta invece questa è un'altra notizia che arriva dalla provincia di Pesaro coltellata dopo una lite butta fuori con il rene lesionato c'è stata un'aggressione in casa pregiudicato, arrestato per tentato omicidio e poi i balli proibiti la baia imperiale chiusa per 15 giorni praticamente stagione finita sono state violate le norme anti-covid e poi ancora sotto traditi dalle firme denunciati due writer i writer sono quelli che sporcano i muri imbrattano i muri delle città questa volta è toccato a Durbino che è una città patrimonio dell'UNESCO quindi insomma ci vuole del coraggio ad andare anche a imbrattare dei muri in una città come Urbino ma comunque Cagli, Tarugo il telefono non va noi isolati dal mondo è la protesta di alcuni abitanti di questa piccola frazione che è appunto Tarugo andiamo sul Corriere Adriatico il Corriere Adriatico che non è la Pravda quindi però non riesce ad ammettere che il Candele Sotto le Stelle è stato un flop e quindi titola ai suoi lettori Candele e vaccini comunque magia ecco ditemi voi dov'è la magia in una foto come questa ma comunque magia questo è il titolo la San Lorenzo l'utile e il dilettevole l'utile e il vaccino il dilettevole sono le candele sulla spiaggia nuovo ospedale Sicon Out Out pronti all'accordo con la Regione entro settembre Maricci pone ad Acquaroli tre condizioni Marche Nord non perda lo status di azienda struttura a muraglia e con un progetto modulare poi altro che Covid è un agosto da tutto esaurito le marche sono al top e quindi il mese di agosto si conferma tutto esaurito per il turismo marchigiano le altre notizie Baia stop ai balli la discoteca resterà chiusa 15 giorni a Marotta arresti convalidati nella notte un altro grave un altro accoltellato ed è grave anche qui il Corriere Adriatico racconta e riferisce di questo nuovo accoltellamento a distanza di soli due giorni da quello avvenuto fuori dalla discoteca Miu Polizia Provinciale non si trovano più i fondi nel bilancio poi emergenza idrica Marche Multiservizi mette i sindaci alle strette lettera ai primi cittadini sul nuovo invaso acqua la decisione non è più rinviabile dunque stiamo parlando di questa emergenza idrica e Marche Multiservizi mette alle strette i sindaci è tempo di decidere adesso non si può continuare nei tentennamenti il servizio idrico di domani va stabilito ora il momento è arrivato questo in soldoni il sunto della lettera indirizzata in questi giorni dai vertici di Marche Multiservizi ai primi cittadini ai sindaci allora ripartiamo da Marotta ripartiamo da questo episodio di cronaca un altro accoltellamento a due giorni dal grave episodio nei pressi del MIU un 47enne è stato aggredito da improniosi riservate in manette con l'accusa di tentato omicidio un 43enne del posto piantonato in ospedale poi trasferito in carcere e di questa notizia parla anche il Corriere Adriatico nuova notte di follia lite finisce accoltellate colpito un rene è stato arrestato un 43enne di Marotta ha aggredito un 47enne finito a Torretta è successo l'uno di sera un 44enne del posto già noto alle forze dell'ordine ha aggredito un conoscente della vicina Ponte Sasso colpendolo con un coltello e procurandogli una grave lesione ad un rene ma la pagina del Carlino a pagina 2 mille controlli pochissimi senza Green Pass ma anche perché pochissima era la gente la vera folla è in Viale Viale Trieste e non in spiaggia adesione in flessione all'evento del Clu dell'estate solo in 3 senza la carta verde la polizia locale ha fatto prevenzione e quindi nessuna multa guardate praticamente com'erano le spiagge che solitamente gli anni scorsi erano piene di persone che cenavano eccetera eccetera quest'anno tutto vuoto praticamente a parte un gruppettino di qualche persona messa lì che appunto ha cenato in un ambiente completamente desolante sulla Renile allora le dichiarazioni qui davanti per esempio qui davanti a me raccontano al giornale era sempre pieno invece quest'anno non c'è nessuno l'atmosfera è moscia a dirlo sono due bagnini della spiaggia di Ponente candele sotto le stelle andata così con tanta gente nel marciapiede di Viale Trieste e poca seduta nelle brandine sotto l'ombrellone e poi un'altra dichiarazione con la questione del Green Pass in tanti hanno disdetto il bar è aperto ma a poche persone rispetto all'anno scorso non c'è nessuno e adesso sarà curioso sentire come si giustificherà appunto il a parte che non è questione di giustificarsi perché Ricci c'entra poco alla fine perché è una cosa che dipende dal governo quindi voglio dire lui ha solo anticipato l'annuncio di qualche settimana ma per il resto è una decisione del governo quindi non è questione di sindaco non sindaco anche perché per esempio alla fiera forse l'unica cosa che poteva essere cambiata sono i mille controlli forse è il messaggio che si voleva dare su quello potrebbe avere qualche responsabilità in più il sindaco ma per il resto voglio dire c'è poco da fare Green Pass alla fiera svolta del governo non si deve esibire ecco qui c'è un'altra svolta un'altra retromarcia del governo vedete non si deve esibire il Green Pass alla fiera di Senigallia controlli a campione cambia poco però rispetto a tutta la macchina dei controlli che si è vista ieri sera per esempio a Pesaro sarà un po' credo un po' più diverso però la sostanza non cambia chi verrà sorpreso infatti all'interno della fiera di Senigallia ma così alla fiera di Pesaro la fiera di Fano è tutto così all'interno dell'area senza certificazione sarà multato quindi il risultato quale sarà che ovviamente o qualcuno rischia per andare a vedere com'è la fiera quest'anno oppure rinuncia e probabilmente in tanti rinunceranno il risultato qual è? che i commercianti che hanno dovuto pagare il posto per fare la fiera che hanno investito che speravano di fare due soldi in questo fine estate ecco sicuramente se ne torneranno a casa con più spese che incassi e anche qui a rimetterci dunque è il commercio Povia invece il cantante quello dei bambini fanno Povia rinuncia al concerto di Senigallia del 17 di agosto il cantante racconta dice mi davano la responsabilità delle misure di sicurezza quindi potete immaginare anche i costi completamente lievitati e dunque poi attacca il consigliere campanile sul Green Pass c'è anche la pagina di Fano che apre con un'intervista che l'Anna Marchetti ha realizzato da alcuni imprenditori di alcune note aziende fanesi come Valmex Enereco Isemfissi Flonal e Profilglas Green Pass in azienda chi frena e chi tifa allora chi tifa è Severino Capodaglia la Valmex che dice la vaccinazione deve essere obbligatoria per tutti i cittadini e dunque anche il Green Pass mentre chi sui premi per esempio sui premi che un'azienda di Pergola la Noctis ha dato agli incentivi economici che ha dato ai dipendenti che hanno fatto il vaccino la Enereco invece dice noi nessun premio finalizzato ai vaccini neppure ai 300 dipendenti del Enereco noi i premi li diamo commenta il Vice Presidente Franco Iacucci in funzione dei risultati raggiunti e direi meno male andiamo adesso sulla pagina invece di Cattolica per quest'altro titolo balli e disordini chiusa la baia il locale dovrà restare fermo per 15 giorni episodi pericolosi e senza di dispositivi di sicurezza controlli di carabiniere municipale sposto degli albergatori per schiamazzi e utilizzo piscina chi ha prenotato alla baia il ferragosto può recuperare i soldi e avere dunque il rimborso pagina 14 del resto del carino la politica fanese stracci nel partito democratico se ne va da bacchiocchi dura replica dell'ex consigliere regionale Minardi al segretario cittadino del partito ora il congresso non è più rinviabile il nodo l'aggregazione tra aset e marche multiservizi prima di sposarsi ci si fidanza e si convive dice mentre sulla pagina della pagina 10 si parla di sanità sul Corriere Adriatico sia il nuovo ospedale ma a tre condizioni il comune è pronto ad accordarsi con la regione Marche entro settembre con però dei distinguo Ricci dice Marche Nord mantenga il suo status struttura che si deve realizzare a muraglia e che sia modulare questo per quanto riguarda appunto questo piano sanitario che sapete rispetto a quello di Ceriscioli è stato cambiato dalla giunta Acquaroli e il sindaco Matteo Ricci ieri mattina durante una conferenza stampa tutta dedicata alla sanità ha premesso di non aver volutamente rilasciato dichiarazioni pubbliche negli ultimi tempi per capire quali fossero le intenzioni della giunta Acquaroli Acquaroli che ha incontrato alcune volte in otto mesi mi pare tre volte in otto mesi andiamo sulla pagina di Vallefoglia bonus 110% le richieste continuano boom di cappotti per i condomini nuovi cantieri a settembre l'esperto di settore balzano dice solo il 20% sceglie la riqualificazione sismica mentre ad Urbino denunciati due giovani i manceratesi per aver imbrattato le mura erano ospiti a Durbino di alcuni studenti vicini alla scena trap a Fano invece il Corriere Adriatico il Paese dei Balocchi alla Rocca inaugurata ieri la nuova edizione di esseri di parola questo è il titolo di questa edizione aperta la mostra fotografica storica il sindaco eletto è il cantatore bungaro il 19 agosto il concerto con i bambini della scuola Tombari poi i Tineris alla scoperta della bellezza dell'entroterra valia a scoprire diventa protagonista partendo dai turisti della costa nuove scogliere per Metauriglia costa da difendere piano da di cinque anni la regione definirà un atto di indirizzo per individuare le priorità un'opera da 3 milioni e mezzo di euro dove ci sono gli stabilimenti altri 4 milioni e due per il tratto di litorale senza le concessioni l'assessore regionale Aguzzi potrebbero essere previsti già nel 2022 mentre dalla Valmetauro Cesane il compleanno della capanna dei Folletti la struttura è stata realizzata da Ermanno Allegretti naturalista e affubbolatore mentre sotto proiettile d'artiglieria trovato in via Fano e fatto brillare siamo a Mondolfo l'ordigno è riaffioreato durante una ratura del terreno sono intervenuti i militari ma insomma hanno fatto una buca da due metri e mezzo l'hanno messo lì questo proiettile così e l'hanno fatto brillare da Raffaello a Genga invece in bicicletta l'elogio alla lentezza in quattro comuni presentata la rete cicloturistica che attraversa Urbino Vallefoglia Petriano e Isola del Piano mentre la festa del Duca stasera Anfitrion in piazza si parte alle 16.30 a Palazzo Ducale con Vittorio Emiliani volevo però tornare un attimo sulla pagina di Fano per quanto riguarda il giornale perché c'era una notizia che volevo darvi ma non riesco per trovarla e va bene vediamo se è qua no non è qua va bene fa lo stesso andiamo adesso sulla pagina di Senigallia la rotonda la rotonda chiusa tutte le mattine i turisti portano dentro la sabbia apre di pomeriggio anche nel fine settimana di Ferragosto il sindaco scelta di chi mi ha preceduto dice il sindaco di Senigallia Olivetti nell'altra pagina invece scoperto il finto tecnico dei gas ne abbiamo parlato anche ieri chi segue la rassegna se lo ricorderà è una ditta fasulla una ditta inesistente una ditta fake la titolare adesso è nei guai indagine lampo della polizia due denunce per il raggiro che è costato 900 euro ad una anziana mentre sotto doppio ride dei vandali allo chalet del Cogesco panchine e maniglia rotte preoccupazione al Cianin sporgeremo dicono denuncia senza telefono invece a Cagli isolati dal mondo la protesta dei residenti di Tarugo in caso di bisogno di soccorsi siamo praticamente nei guai Chiarabilli da Fossombrone assurdo spendere 183 mila euro per una mostra il consigliere di minoranza dice era meglio dare contributi alle famiglie di Fossombrone e poi a San Benedetto un bandito travestito da postino razziata gioielleria in centro in via Montebello allora chiudiamo con lo sport ho selezionato due pagine la prima che riguarda il Fano per il Fano il verdetto decisivo a mezzogiorno c'è l'udienza il collegio di garanzia del CONI sul ricorso dell'Alma che spera di essere riammessa al ripescaggio quindi di tornare in serie in Lega Pro ma probabilmente sarà molto difficile ma comunque attende anche la Lega Pro che ha sorteggiato i calendari lasciando una X a difendere Granata c'è l'avvocato Chiacchio qui intanto nella fotografia vedete Russo Russo che è il nuovo proprietario che insiste in pianto luci regolare per i seggiolini siamo in tempo e la fideiussione è sempre stata ok l'altra pagina invece che ho segnalato perché c'è una curiosità andiamo di nuovo a San Benedetto un raggio di sole rosso-blu la Samba ce la farà c'è e farà la serie D è stata costituita infatti l'unione sportiva San Benedettese 1923 Gravina ha dato il suo placet la novità qual è? ci sono quattro soci per ora sono Roberto Ascani Remo Croci Gianni Iacoponi e Gennaro Olimatola Remo Croci che è un giornalista che tutti conoscete lavora a Mediaset quindi anche lui diventerà verrà nominato direttore generale di questa nuova squadra fa parte di questi quattro soci sensazione bellissima dice per lui è una famiglia il giornalista commenta il suo ritorno e apre la porta a Colantuono e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito vi auguro una serena e piacevole giornata vi ricordo che questa sera come sempre alle 20.30 c'è il nostro telegiornale occhio alla notizia arrivederci a ciao a a a a Grazie a tutti.